So che aspettavi questo momento con ansia. Sono contento di aver vinto per... Una curiosità, si può dire maestra oppure maestra. Quindi avremo cipresso, depresso, presso, bresso, nesso, adesso e così via. Se vuoi farti un buon ripasso vai a vedere questo video. Se questa mosca mi gira un po' intorno... Sono due tra l'altro, bastarde. Una è lì. In viaggio in groppa ad una renna scarabocchiava con la sua penna. Tracciava... Si dice secchio. Che come al solito sono spettacolari. E facciamo un cat. Facciamo un cat. Facciamo un cat. Mosca.